L'operazione affidata ai medici dell'unità operativa di ortopedia è stata programmata per ridurre la grave frattura al femore riportata dal giovane nella terremenda caduta e che però non è l'unica che il 19enne si è provocato, oltre a un trauma cranico e ad una serie emorragia cerebrale. Sono gravissime le condizioni di Antoine Dominique Mignolet, lo studente belga che da ieri è ricoverato in rianimazione a Villa Sofia. Sedato e intubato è stato raggiunto ieri sera dai genitori giunti a Palermo dal Belgio. Sul fronte delle indagini sembra ormai fuor di dubbio che il ragazzo sia rimasto vittima di una bravata finita male. Mignolet è in gita scolastica con i compagni e ospite dell'hotel Sara Cendisola delle Femmine avrebbe scavalcato il balcone della sua stanza al primo piano dell'edificio nel tentativo di raggiungere dall'esterno la camera attigua. Forse uno scherzo, comunque una ragazzata di quelle che purtroppo spesso si fanno eludendo i controlli dei docenti e che in questo caso è costata cara al giovane belga che durante la sua acrobazia ha perso l'equilibrio precipitando al suolo da un'altezza di 5 metri. Immediatamente soccorso è arrivato a Villa Sofia in condizioni già critiche. Dopo aver lasciato la sala operatoria si riaprono per lui le porte della neuro-rianimazione. I medici tengono sotto controllo il vasto edema cerebrale ma nient'altro trapela al momento. Nell'albergo d'Isola delle Femmine sono arrivati i carabinieri che stanno indagando sull'episodio e hanno sequestrato la parte dell'edificio in cui si è verificato l'incidente. Non il primo di questo tipo purtroppo come dimostra anche la cronaca. A fine marzo un altro studente siciliano era rimasto vittima di un episodio per certi aspetti analogo. Il quindicenne di San Giovanni la Punta è morto dopo essere caduto dal ponte della nave da crociera in cui si trovava con una scolaresca a Barcellona. Anche in quel caso gli investigatori privilegiano l'ipotesi della bravata.